Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Samuele e in questo video vedremo le partite che ho fatto in RoboAssalto Questa è la prima partita che ho fatto Eravamo in Colt, un Bull e io che ho usato sempre il primo Allora, è andato a uno L'ondata uno non è niente perché è semplicissimo Vedete, già l'ondata due e sono morti solo due robot Poi sono arrivati ovviamente altri robot perché questo è il RoboAssalto Poi appena uscirà il raid, inizierà a fare più già anche su quello Qua già eravamo arrivati all'ondata tre Scusate se sentite il suono delle notifiche Già quando sono iniziato a generarsi un sacco di robot Vedete che girano e girano Allora, qua arrivano tanti robot Ma sempre Ma sempre facili da uccidere Qua ho Cioè in due colpi ho ucciso due robot assieme E ho detto subito Di già l'ondata sette Perché Ogni sette andate c'è un robot Questo però è facile da uccidere Toglie poco Poi appena inizia a infuriarsi Però diventa troppo forte Io mi dispongo sempre all'ulti per combattere robot gigante Se ci sono due robot appiccicati uso l'ulti comunque perché Altrimenti poi fanno troppo danno E qua siamo già all'ondata nove Ancora non si vede nessun robot Ma all'invece C'è uno che dà i pugni Allora Scusate Ho dovuto censurare perché altrimenti ho ricevuto le notifiche Anche se non sono parate bene Già eravamo all'ondata 11 Già la prima partita è andata benissimo Perché eravamo già due minuti E ancora Diciamo che i robot erano Forti Cioè Come vedete ancora io In quattro pugni riesco ad uccidere quelli Meno male Io uso il primo perché ha la carica veloce Quindi E poi perché Cioè da pugni E fa molto danno Poi visto che in questa modalità Ci sono tanti muri Metto uno che è attaccato vicino Quelli iniziati a catapultarmi sul robot Che era già viola Ovvero arrabbiato Ed è diventato più forte ovviamente Però sempre che si poteva uccidere Già avevamo tolto un bel po' di vita Io ovviamente me lo porto a spasso Perché non voglio che Distrugga i muri Perché altrimenti non avevamo Modo per pararci Perché altrimenti i robotini Ci spaccavano tutto E qua ho fatto una ulti Sono scappato subito Abbiamo ucciso il robot Poi ho visto che il nostro Il nostro alleato era morto Siamo andati subito là E avevamo perso troppa vita Alla cassaforte Poi ho detto no Che cosa Perché era C'era una percentuale molto alta E si è abbassata immediatamente Perché questi robotini Sono forti quando diventano rossi Soprattutto quelli che danno i pugni E quelli a Ecco Questi qua che arrivano a patata Ho dovuto farlo per forza Perché altrimenti Quello spaccava tutto Allora qua è il 21% Come vedete Ho fatto Tre partite Stamattina E diciamo che la prima è andata benissimo Perché come vedete Poi però sono arrivati troppi robot E abbiamo perso Poi perché ero rimasto anch'io Robot gigante Boom Morto E questa era la prima partita E ragazzi Partiamo con la seconda Battaglia Che ho fatto Ecco Allora E' una semplice partita Ovviamente All'ondata 1 Arrivano 1 2 3 Robottini Quindi Ma anche scarsi Quindi Non ci dobbiamo preoccupare E arrivano sempre Sperti Questa clip L'ho già fatta vedere Aspettate Penso di No Error Allora Perché ho fatto adesso la prima E allora Io sempre con il primo Perché Mi era confuso Perché ho fatto Una partita Con lo stesso team Però avevano i nomi diversi I giocatori Quindi scusate Un attimo Per il taglio Ah come vedete Siamo all'ondata 2 Perché giro un po' Giro un po' Giro un po' Vedete Vedete che Che alle prime Mondate I robot Sono scarsi Ogni 7 andate I robottini Diventano Viola Poi rossi Poi gialli E poi bianchi E poi diventano Troppo Forti Allora Però guardate Quanta facilità Ci vuole Per ora Per uccidere Un robottino E questi qua Con i pugni Hanno più vita Allora Già siamo Vedicamente Un minuto Dalla partita E' andata a 6 E' andata a 7 E mi sono Tuffato dal robot Perché ragazzi Mi ero confuso Perché ho già guardato Io Questi video Però Mi sono accorto Che erano Diversi Infatti Questo non ve l'ho Fatto vedere Aspettate qua Allora Io mi interrompo Sempre con la Ultibull Va addosso Inizia a fare Un po' Di danni Io pure Alle spalle Vabbè Poi alla fine Fatto Però Ci siamo accorti Che eravamo Tutti qua C'erano due robot Arrabbiati Che erano qua Abbiamo detto No Pure questa Ho detto No Pure questa Partita Abbiamo Perso Molta vita Subito Che poi Si deve stare Molto attenti In questo momento Perché Perché dovete Sempre Tenere i muri Quindi Giocati con Degli amici Perché io Non ho giocato Con degli amici Ma molto Presto Ci giocherò Nel secondo Video Di Robo assalto Finché Durerà Ovviamente Poi Appena Esce il ride Io gioco Al ride Faccio Come qua Che registro Prima Perché Mi sono accorto Che quando non parlo Mi concentro di più A giocare Infatti Per fare i video Io Sarei troppo Scarso Ah I robot Che sparano Sono più Concentrati Alla Cassaporte Invece I robot Che danno i pugni Ai nemici Ai amici Ai brawler Allora Qua c'è il robot Mi ha arrabbiato Io Subito Cioè Arrivo con la ulti Boom Io scappo Subito Per aiutare L'amico Eh Qua mi ero parato Con lo scudo Del mio amico Però Alla fine Ria presi Un po' di danni Allora Qua abbiamo Qua credo Che abbiamo Abbiamo perso Sì Perché il robot Aveva ancora Un po' di vita Ma tutti Stavamo morendo E infatti 3 minuti 42 Ok Ultima Partita Che ho fatto Stamattina Questa Abbiamo fatto Io sempre con il primo Poi un Frank E un Colt Rockstar Che questo team Va benissimo Perché Uno attacca da lontano E due attacchano da vicino Poi Frank Può paralizzare Il robot gigante E un Colt Con la ultima Può uccidere Più robot E io invece Posso Sempre Sbarazzarmi Di robot Piccoli E anche Un po' Quello grande Ho detto Visto che È l'ultima Partita Che devo fare Voglio Almeno Resistere Per più Tempo Se non sbaglio Eravamo morti Però Sempre bene Eravamo morti Ovviamente Robo assalto Il massimo Di minuti Sono 13 E 14 Secondi E poi Vinto Però si vince Anche se Resisti Per un secondo Però i premi Diciamo che sono belli Proprio Un secondo Dalla morte Che preme Anche impossibile Allora Ok Robot enormi Arrivo Ma Questi robot Enormi Già arrivano Subito Io inizio Subito Subito A picchiarlo Io Lo porto Sempre Spesso Perché Altrimenti Il robot Distrugge I muri E io Non posso Pararmi Allora Già Avevo Sconfitto Io perché Immobilizzo Allora Censura Censura Ovviamente Perché Nessuno Deve vedere I miei notifichi Top secret Anche se Diciamo che L'ho censurato Ebbene Però Non potevo Mettere I colori Così Ah Ok Ondate Dieci Come Vedete Ogni sette Ondate I robot Si infuriano Vedete che Questa sia La partita Più lunga Che abbiamo Fatto La seconda E la prima Cioè Guarda Io volevo Difendere Il Frank Però Alla fine Il robot L'ha ucciso Mentre Era morto Perché Aveva dato Un colpo Troppo Presso Allora Questa partita È andata bene Anche perché Siamo resistiti Per molto tempo Però questi Robot A patata Sono Il Il guai Perché Sono troppo Forti Attaccano Veloce Sono Veloci Cioè Allora Ondata 14 Il robot È ancora viola Non è Rosso Né giallo Né bianco Allora Subito Mi sono catapultato Sul robot Sono scappato Il robot È iniziato A spaccare Un po' Però Meno male Che il Frank Ha paralizzato Il robot E si è concentrato Per altre cose Per ammazzare Il nostro amico Io qua Sono morto E io praticamente Cioè Frank ha spiegato La ulti Vedete Quelli che sparano Erano Sono veramente Troppo forti Quando si arrabbiano Allora I robot Quando I robot Che danno i pugni Quando diventano rossi Hanno 11 Mila di vita E sono Cioè Troppo forti Diventano Se si portano Al bianco Non l'ho mai Visti Massimo al giallo Li ho visti Però Non mi ricordo Quanta vita Avevano Allora Siamo resistiti Per l'ondata 21 Però Credo che il robot Non l'avevamo ammazzato Perché Era troppo forte Poi qua Sono iniziati ad arrivare Troppi robot Io ho fatto molti Che ho sentrato male Robot che spara Io mi sono dovuto Suicidare Perché altrimenti Erano finiti Allora Qua erano morti tutti No No Non l'abbiamo portato Il robot Perché quello Si era arreso Vabbè E ragazzi Queste erano Le clip Di video Che avevo fatto vedere E vi lasciate un like Al video Iscrivetevi al canale E niente Ci vediamo con un prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti